Ciao bella raga, benvenuti in questo nuovo video da Ciro Allora ragazzi, e di nuovo siamo qui per voi Io ringrazio i 576 iscritti sul mio canale Grazie a tutti quanti ragazzi Questo video è per voi Tutti i video, tutti i like, tutte le iscrizioni Sempre per voi Voi mi rendete una gioia molto importante E' stato pizzicato di nuovo con un'altra donna Vediamo cosa hanno detto i giornalisti ragazzi Gianni Amano, purtroppo, venne sempre pizzicato e acchiappato Ma, ma Gianni, ma ste donne che cavolo ci fai? Andiamo con l'esclusiva con Gianni Amano e questa donna Che tra Gianni Amano e Francesca Chileni il feeling fosse altissimo era evidente Sui social avevano postato foto insieme sorridenti e affiotati da perfetti colleghi di sé La sintonia però potrebbe aver valicato i confini dell'amicizia ed essere sfociata in altro I giornalisti pubblica le foto della coppia in incognito mentre esce dallo stesso portone Eccoci qui ragazzi Ai, 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 Gianni si è stato pizzicato di nuovo Mamma mia Ehi ragazzi, che dire Ehi, purtroppo Devi nasconderti Gianni Così i giornalisti non ti prendono Ragazzi, io sempre come regola Iscrivetevi al canale Lasciatemi un like E se questo vi è piaciuto ragazzi E' sempre per voi Io vi ringrazio sempre Ci vediamo al prossimo video Sempre se Gianni Amano non è stato pizzicato Da Cira Mangiere è tutto ragazzi Ciao bella raga Ciao bella